Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati su Terraria Vi devo informare che ho aperto un profilo Twitter Quindi ragazzi andatemi assolutamente a seguire su Twitter Vi lascio il link in descrizione e vi metto anche una finestra d'acqua nel video forse Perché ogni giorno twitterò roba, quindi saprete magari in anteprima video che dovranno uscire Magari vedrete qualche meme divertente perché ho intenzione di fare anche questo Quindi ragazzi assolutamente importantissimo andate a seguirmi su Twitter Comunque ragazzi, oggi non batteremo il golem perché mi sembra troppo presto Vorrei tenermi il golem da battere ancora un po' più in là perché altrimenti siamo già quasi a fine gioco e non mi va Comunque oggi ci concentreremo sulla creazione del nostro mage loadout Perché se avete seguito gli episodi precedenti avrete sicuramente sentito che ho intenzione di fare un mage loadout Di passare in mage per un po' e poi magari tornare in me lì Anche perché volevo provare il mage per la Pumpkin Moon Allora ragazzi, per fare un buon mage loadout abbiamo bisogno di due accessori Molto molto importanti Che sono le Magic Cuffs e il Celestial Emblem Allora, qua si apre una ramificazione di oggetti che dobbiamo trovare prima di craftare questi due oggetti Quindi ragazzi, ora non è che mi ricordo molto però man mano che li troviamo mi ricordo Quindi allora, ci serve una Band of Regeneration e una Band of Star Power Queste due cose le troviamo in un altro mondo ragazzi perché qua non le ho trovate A quanto pare questo mondo è povero di queste due cose Magari forse la Band of Star Power potrei averla ma non ne sono sicuro Comunque ragazzi non le abbiamo trovate e la mia intenzione Oddio dove sto andando La mia intenzione è di andare, di creare un altro mondo e cercarle lì Tanto per non prenderle da un altro perché è davvero brutto Siccome qua non le ho trovate almeno le cerchiamo in un altro mondo Non credo che sia una cosa così orribile da fare Comunque dove sto cercando? Ok, gli oggetti sono qua Non vedo Band of Star Power neanche Band of Regeneration Ok raga, ok Allora, ora dobbiamo andare a creare un mondo corruption Perché ci serve anche la Band of Star Power Per cercarla E anche la Band of Regeneration che la cercheremo molto probabilmente nella giungla Quindi ragazzi, che aspettiamo? Andiamo a creare un altro mondo Entriamo semmeno con questo personaggio Creiamo un nuovo mondo piccolo Ovviamente in Expert E Corruption Ehm Un nome a caso Ehm Creiamo il nostro mondo Speriamo che mi dia tutto ciò che mi serve E spero di trovare subito quella cavolo di Band of Regeneration Perché non ne ho voglia di cercare troppo raga Comunque dovete sapere che mi sono appena svegliato Quindi le mie capacità cognitive non sono al massimo Ehm E wow Comunque Ehm Entriamo nel nostro mondo Spero che Ehm Ah ok Dove sarà la giungla? Andiamo a destra Cerco la giungla perché ho più possibilità Di trovare questa Band of Regeneration E subito abbiamo un enorme albero davanti Quindi facciamo così Non ne ho voglia di scavare E lo facciamo esplodere Dai che palle Non so neanche piazzare gli esplosivi raga Di mattina non riesco a fare niente Ok Che bello shottare i mob Boom No Devi essere shottato da me Vai Sì G-Met Bravo Che mira che hai Sì Oh Cavolo Oddio Rara una cosa del genere Mi è capitata una volta forse Raramente Questa è la seconda ovviamente Ehm Niente Però wow Mi sarebbe piaciuto tantissimo All'inizio del gioco Avere una cosa del genere Oh Sì Versagli fermi Almeno questi riesco a prenderli Gli altri no Anche per via della mia C'è città Ovviamente Come sapete Io sono cieco Sono mezzo cieco Solo su Terraria però eh Oddio Una piramide Quante probabilità Si trovano bene Nero French Nation Zero Credo zero Credo che non si possa trovare Quindi Andiamo avanti Continuiamo a non trovare una giungla Perché Terraria mi vuole male oggi Mi vuole far sprecare tantissimo tempo Non sprecare tantissimo tempo Però Ah sì Ok Trovata Comunque Usare tantissimo tempo Per niente Perché potrei trovarla subito Come è successo Per fortuna Quindi raga Non mi sono neanche equipaggiato A dovere Con una Pozione splendore Una Anche con una Cavolo Una spelunker Cavolo Invece no Andiamo a Yolo No Non è giusto così Andiamo a prenderci Una spelunker E una Splendore Una Una No No Lightning Fulmine Cosa dico Shining Shining Se non sbaglio Non ricordo come si chiama Comunque Non ne abbiamo neanche una Quindi dobbiamo craftarle Spero che posso craftarle Sì Sì una shine Ok avevo ragione Quindi prendiamo due shine Due spelunker Spero 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 Mi bastino Lo spero vivamente Non ne ho voglia di fare avanti e indietro Oddio Posizionavo bene il microfono Doveva essere qua giù No Invece era Falsa Quindi è questa Per forza Ok Oh bello Mi piacciono queste cose Perché in un mondo che genero Normalmente Cioè per fare un playthrough Non mi succedono mai queste cose Che bello Oh un'ombrella Mi manca Questi 6 team Non mi servono Una civetta Mi può servire proprio ora Che culo Comunque raga Queste cose belle Queste formazioni Enormi Mi piacciono un sacco Perché non si formano mai Quando Quando serve Comunque Prendiamo B Ora Vediamo praticamente tutto Spero di non farmi ammazzare Da questi mob Perché sarebbe davvero umiliante Ma io Ragazzi Sono capace di riuscirci Perché lo sapete Che sono ben capace Questa herb bag Mi serve Credo di averne vista Un'altra O qua O più su E mi può servire Davvero E con un'altra E qua Ce ne dovrebbe essere Un'altra Si Ok Perfetto Sono davvero utili Perché si trovano delle erbe Che Mi aiuteranno a fare pozioni Vabbè che Ho già praticamente tutto Però Dai Per averne in più Comunque Uh Già una Casettina Spero che ci sia Quella cavolo di Vendor for a generation E c'è invece Una cavaliera del vento Che non mi serve Fantastico Comunque Continuiamo a esplorare Un sacco di cuori Vedo raga Però Non ci interessano Proprio Zero Apriamo più ceste possibile Manco fossimo In crash royale Comunque Vediamo un po' Comunque ragazzi Stavo pensando Di implementare Nel canale Un nuovo Gioco Ovviamente Un nuovo gioco Sempre inerente Al sandbox Come terraria Quindi Che ne so Per esempio C'è un gioco molto bello Che si chiama Starbound Lo conoscete sicuramente Ed è una specie di 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 Terraria strano Non lo so E la grafica è più potente Ora non ricordo bene com'era Non ho avuto modo di giocarci Ho solo visto i video Da Duke Mi pare Neanche mi ricordo Perché sicuramente Sono di 3-4 anni fa Però Mi ricordo che c'è questo gioco Che era abbastanza carino Che è abbastanza carino Quindi Fatemi sapere cosa ne pensate Non sono Cioè Dipende tutto da voi ovviamente Io non posso portare altri giochi Senza che voi Me lo diciate Perché Ovviamente Per rispetto Perché io ho costruito la mia fanbase Intorno a Terraria Se io dovessi portare un altro gioco Senza Almeno L'approvazione Della Della metà dei miei iscritti Sarebbe Una cosa Davvero ingiusta Quindi No raga Comunque Fatemelo sapere nei commenti Così Per Per sfizio Voglio Voglio sapere cosa ne pensate Comunque Anche la civetta è attiva Quindi perfetto Qua abbiamo Della No Questi sono degli Slash Block Dei Silt Sbagliato 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 Ho cambiato il nome Non me lo ricordo Comunque Wow Sono precipitato Da una distanza enorme Wow Come è generata bene Questa trappola Assolutamente Non si vede Complimenti Terraria Hai generato proprio Perfettamente Una trappola Comunque Ora sarebbe stato Un grand fail Se Se il boulder Fosse scivolato Nella mia direzione Sarebbe stato brutto E basta Basta Non ne voglio più Di sti cosi Non mi servono Non sa Uno me ne serviva Voglio una cosa Di band of regeneration Ok abbiamo Uh Tre chest Ti prego Allora Apriamo questa Che è la più probabile C'è più probabilità Di trovarla E dentro No 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 Non l'accetto Una cosa del genere Voglio una band of regeneration Ti prego Per favore Basta Basta Cesti inutili Basta Voglio quella cavolo Di bella Cosa c'è lì sotto Wow Interessante Mi piacciono queste cose Dai Non è possibile Non me ne Non me ne faccio Niente Di queste Che palle No davvero raga Sono Sono stufo Ok ok raga Qua possiamo davvero Seriamente trovarla E Sì 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 Grazie Grazie Perfetto Mio dio Non ne potevo davvero più raga Basta Ok Perfetto ragazzi Ora ci serve La Band of star power Che troviamo Molto probabilmente Nella Nostra corruzione Che ora Andiamo a cercare Oddio Potete usare lo specchio Perché sono tornato Mietro così Ma Ragazzi Si vede che mi sono appena svegliato Non devo più fare il video appena svegliato Comunque Entriamo nel nostro mondo Wow Non so ragazzi Perché sono Sono uscito dal gioco In questo modo Però Boh Vabbè Comunque ragazzi Appena sono spawnato Ci sono viste due gocce di pioggia A rallenti Forse abbiamo un calo Di fps Probabilmente perché Ho tanta roba Aperta in questo momento Raga Ovviamente non trovo mai L'entrata al primo colpo Cioè in teoria Dovrebbe essere quasi sempre la seconda Perché la prima Di solito Non porta mai Eh Però questa è la seconda E infatti raga Ho sbagliato io Questa era la seconda L'altra è la prima Infatti Non c'era Di solito è così Nella prima non c'è mai L'entrata Nella seconda si Infatti sono andato direttamente Nella terza Comunque ragazzi Se troviamo il primo colpo Sono davvero Fortunato E anche felice Muscat Oddio Comunque non è più attivarla No non è più attivarla Spelunker Attiviamo Comunque Così almeno Vediamo un po' di roba in giro Vediamo anche di più E ora Distruggiamo tutti queste Queste orbite Spero di non dover creare Un altro mondo Corrotto Band of star power Sì Fantastico raga Fantastico Ora Ci servono Cosa ci serve Boh Ora queste possiamo già combinarle Quindi torniamo nel mio mondo E combiniamole Poi Credo che Non ci serva più niente Ad altri mondi No Raga abbiamo finito Abbiamo finito di cercare Le cose da Da quel mondo Ora ci serve solamente Ci serve solamente Un Shackle Comunque Ora combiniamo queste cose Ne facciamo La Mana regeneration Band Una cosa del genere Si chiama Poi ci servono Anche altre cose Eccola qua Mana regeneration Band Ecco Indovinato E craftiamola Ok Abbiamo già È uscita Warding È anche Carino Comunque ora ci servono De Uno Shackle Una Una Come cavolo si chiama Manetta Si chiama in italiano Spero di averla Altrimenti devo farmarla E Non ce l'ho Raga Che Perché Non mi conservo le cose Io Perché Non mi conservo le butto Quindi Devo Praticamente Farmare zombie Raga Non è possibile Questa cosa Dai Qua ormai Boh Non vogliono Sponare Probabilmente Perché il mondo In hard mode Quindi invece di Sponare zombie Magari qualche volta Spona Qualche Occhio errante In più Qualche Armatura maledetta In più E si è fatto pure Il giorno Non me ne ero neanche accorto Quindi Ragazzi Al contrario Di quello che ho detto prima Dobbiamo tornare in quel mondo A farmare qualche zombie E cercare questi benedettissimi Questa benedettissima Shackle Ragazzi Perché come sapete A me piace un casino Terraria Ma odio farmare Questa è la cosa più Più Lezza Comunque ragazzi L'unico motivo Per cui Ho costruito Questa Bellissima Piattaforma E per il mio pigmeo E per il mio pigmeo Che almeno Può stare sopra Ah può stare sopra anche Le platform Non lo ricordavo Comunque Comunque Sta sopra Uccide Uuuuh Sì Eccolo qui Fantastico Ci ho messo Meno tempo Raga Perché è proprio Ho appena finito Di costruirla Ora Ho messo Dei secchi di lava Al volo Comunque Fantastico Neanche troppo Sbattimento Bellissimo Raga Bellissimo Adoro questo Vedete ragazzi La fortuna Su Terraria E' tutto Per me Comunque ora Combiniamo Queste due cose E craftiamo Sto andando Perché posso usare Il tetrasporto Invece non lo uso mai Craftiamo Ecco le nostre Magic Caff Che ci ricaricano Di mana Quando veniamo Danneggiati Quindi Come avete già potuto Immaginare Io evito Come la peste Le pozioni Di mana Perché ragazzi Applicano il debuff Mana sickness Che toglie Fino a 40% Di danno magico E sapete che io Ci tengo davvero Tanto alle percentuali E 40% E' tanto Raga Ve lo posso assicurare Quindi no Raga Usiamo Le magic Le celestial Cuffs Quindi l'unica cosa Che ci manca ora E' celestial magnet Che non abbiamo Ce ne vogliono due Raga Perché uno Lo uniamo a queste E uno Lo uniamo a Avenger emblem No Si Si è l'avenger emblem Con cui Craftiamo Il celestial Emblem Quindi queste due cose Ci saranno molto utili Ora Ci manca solo una cosa Il celestial magnet Che ci Ce lo vende Il nostro Venditore ambulante Il nostro Vucumpra Che Che non è spawnato Wow Ah si Ed è spawnato Perché io Giustamente Giustamente Sono uscito dal mondo Fantastico Bellissimo Comunque Siamo Praticamente a metà Dell'opera L'unica cosa Che ci manca ora E' clorofite Quindi andiamo a cercare Altra clorofite E siamo anche a posto Possiamo Possiamo anche concludere L'episodio Apriamo queste Herbe bag Che c'è Oh bello Carino Belli Waterleaf Ci servivano Munglo Bello Bellissimo Mi è piaciuto Mi sono piaciuti Questi tre Tre spacchettamenti Comunque Mi mancavano Anche i munglo Seeds Dove sono tutti Sei maglio Tutti piantati Poi li devo raccogliere Perché mi dimentico Comunque Andiamo nella nostra Bellissima giungla A fare le scimmie No scherzando Andiamo Andiamo a prendere Questa clorofite Grazie a tutti Ragazzi Farming Completato Ho preso anche Un po' di più Di quello che dovevo prendere Perché Oltre a Lude Devo farmi Anche la Mask Che invece Quella Aggiunge Più danno Comunque Ho già L'ectoplasma Me lo sono messo Poco fa Per averlo Già pronto E quindi Andiamo A craftare Le nostre Clorofite Bar Oddio Ho Come la Sensazione Che non Mi bastino Chissà Perché ho La sensazione Che non Mi bastino 64 No Ma dovrebbero Bastarmi Per forza Ecco qui Oddio Ecco Lo sapevo Non penso in più Un cavolo Cioè Mi mancano Quattro Barre No Due Barre Che si fanno Sì Due Barre Quindi vado Velocemente Anzi Speriamo Che Ce l'avrò Qua Dove sono I minerali Cavolo Erano qui Ecco No raga Vado Velocemente A prendere Un po' Di clorofite E torno Subito Ok Ecco Fatto Ecco qui E ci craftiamo La nostra Spectre Mask Perfetto Travelli Mercantile As Arrivedo Ragazzi Sarebbe Perfetto Se ora Vendesse Il celestial Magnet Ragazzi Sarebbe Una cosa Fantastica Ti prego Vendimelo E siamo A posto Ti prego Ti prego Ti prego No Sta vendendo Il pulse Bow Che è abbastanza Carino Però Non ne vale la pena Comprarlo Però vende Altre due cose Interessanti Che sono Il DPS Mater E il Stopwatch Che ci compriamo Entrambi Perché sono carini Da avere Servirà Per craftare Il telefonino Se un giorno Lo crafteremo Probabilmente A fine serie Crafteremo Anche La Come si chiama Quel mount Ci ho fatto anche Un video sopra Quel mount Che Ci vorrei Mette Di scavare Tantissimo Il drill Containment Unit Se non sbaglio Si era così Comunque Quel mount Ci crafteremo Faremo un sacco Di roba Oltre il gioco Appena lo finiremo Perché la serie Continuerà Per tanto tempo Spero E poi Inizieremo Una nuova Comunque ragazzi Potrei In teoria Tra virgolette Già usare Il mage Però Non mi va Troppo Non mi va Perché non ho Gli attrezzi giusti Non ho E potrebbe risultare Debole Come invece Non credo Che sia debole Quindi No Non lo uso Ancora Più che altro Depositiamo E concludiamo L'episodio Vedi di vendere Una prossima volta Altrimenti ti uccido Davvero Posso ucciderti Anche ora Se voglio Basta Affogarti O qualche Altra tortura Strana No invece Io Io invece di affogarti Ti brucio vivo Si posso farlo Posso bruciarti vivo E' inutile Che ti metti lì Tanto ti sposterai Prima o poi Quanto godo Oh sì Che bello Fantastico Oddio E' spawnato di nuovo What the fuck Vende roba diversa Oh mio dio Muori Muori ancora No No Tu devi morire Tu devi morire Non ci credo Ma non lo sapevo Che si potesse fare Una cosa del genere Oddio Oddio Muori Muori tutte le volte Che puoi Rispauni sempre Basta che sia di mattina Vero No Che stupido Che sono Ma allora sei deficiente Proprio Oh raga Non vuole morire Cioè No Aspettate un attimo Devo uccidere questo NPC Proprio con tutti i mezzi Possibili e immaginabili Che ho a disposizione Devo ucciderlo Deve morire Subito Immediatamente Prima che trascorra troppo tempo So che Mi dispiace Ma tanto Sei immortale Quindi Non me ne frega niente Di te Tu Pensa a morire E la risolviamo così Oh Che bello Respona Ti prego Respona O forse non è più mattina Comunque è stato fantastico Vederlo risponare Ne è valsa la pena Di mettere un po' di lava Tanto basta fare così E cade giù Non ce ne frega proprio niente Della lava Se ne va via Boom Una se n'è già andata Comunque è stato fantastico Che è risponato Probabilmente Perché Era ancora mattina E nell'arco della mattinata Respona ogni volta Che lo uccidiamo E questa ragazzi È una cosa fantastica Mi è venuta un'idea Posso Praticamente Farmare Questo npc Wow Bellissimo Bellissimo Questa cosa Raga Lo ucciderò Sempre Comunque ragazzi Direi di concludere Qua l'episodio Nel prossimo Probabilmente O batteremo la Pumpkin Moon Con il Major Loadout Sperando Che riesco a farmi Vendere questo Benedetto Magnet Celestial Magnet Oppure Direttamente il Golem E lo uccidiamo tranquillamente Non lo so raga Non lo so Cosa faremo Ma credo la Pumpkin Moon Perché non voglio andare Troppo avanti Comunque ragazzi Ricordatevi di seguirmi Su Twitter Vi ricordo che avete Il link in descrizione Seguitemi lì Perché Vi twitterò Ogni singola cosa Inimmaginabile Sarà davvero divertente E saprete In anteprima Le cose Cosa Magari l'episodio Di cosa tratterà Quindi ragazzi È importantissimo Seguitemi su Twitter Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se è stato così Lasciate un like E commentate Da Gimetti è tutto Siamo al prossimo video E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti